Lisa! Gli sbirri mi danno la caccia! Devo nascondermi! La finestra di Lisa è quell'altra! Scusa! Prontolino! Prontoluccio! Ned! Stacca quel telefono! Silenzio, bestia! Ma io non c'ero neanche! Sul serio! Slyner ce l'ha con me! È così ingiusto! Oh no! Corri alla parte di servizia! Ah ah! Me lo sentivo che ci avremmo trovato qui! Mano, come si? Che ci sei fatto? Eh, il coso ha fatto uscire pazza l'intera città! E mi ha fatto uscire dalla doccia sette volte! Mi ha sparato il selezionatore! È di proprietà di Marge! Ci vediamo in tribunale, Simpson! Oh, e porta il corpo del reato con te! Altrimenti niente prove e tu la farai franca! Eh, come si? Per quei tempistelli che abbiamo fatto? Ma io non posso essere ovunque nello stesso momento, Lu! In tante città il commissario di polizia non partecipa neanche a episodi come questi! Sì, certo, commissario, lo sappiamo! Lo apprezziamo tanto! Ringraziamo lo signore ogni giorno! Lo apprezziamo tantissimo!